Sarebbe stato travolto da un'auto in sosta ed è successivamente morto un 58enne di Pagani. L'uomo la scorsa notte pare sia stato investito da un utilitaria nei pressi di un ristorante in via Tramontana ed ha perso la vita. Originario della città di Sant'Alfonso, ma residente a Nociere Inferiore, il 58enne è deceduto all'ospedale Umberto I, dove era stato trasportato dopo essere stato investito da una vettura che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si trovava parcheggiata lungo la strada. La dinamica è al vaglio dei carabinieri del reparto territoriale di Nociere Inferiore, che insieme ai colleghi paganesi indagano sul caso.